. Se soffri di alitosi, prendi questo e in due minuti lalito cattivo sparirà. Sapevi che esiste un rimedio naturale capace di eliminare lalito cattivo in soli due minuti? Si tratta di un composto naturale a base di cannella davvero molto efficace. . Quali sono le cause dellalitosi?. La bocca è una delle aree più importanti del nostro corpo. . Tuttavia, quando non mangiamo correttamente e non ci prendiamo cura della nostra igiene orale, quest'ultima rischia ad emanare odori terribili. . Non a caso, oggi vi sveleremo la ricetta che vi aiuterà a sbarazzarvi dellalitosi. . Addio alito cattivo, la ricetta del rimedio naturale che lo elimina in pochi minuti. . Ingredienti. 1 cucchiaio da tavola di bicarbonato di sodio ½ cucchiaino di cannella in polvere 1 cucchiaio da tavola di miele e 2 limoni 1 tazza di acqua calda. . Preparazione. . Fate bollire la tazza d'acqua e spegnete il fuoco. . Nel frattempo, versate in una bottiglia il succo di limone insieme con la cannella e il miele. Infine aggiungete l'acqua e la scuotete la bottiglia. . Utilizzo. Prendete uno o due cucchiai di questo composto e fate dei gargarismi. . La cannella eliminerà i batteri che causano il cattivo odore e vi aiuterà a sbarazzarvi del vostro alito cattivo in men che non si dica. Provare per credere. . . . . . . . . .